no non sono pazzo c'è un ospite misterioso ma non si può dire allora sono in ritardo ciao gianti visto che sono arrivato vediamo se intanto si connette qualcuno eccoci qua allora mai come in questi giorni ho letto delle cose meravigliose su questa luna piena in sagittario cioè tutto il mondo del web diciamo così che amiamo collettivamente questa famiglia d'anima da stefania marinelli a annelisa albanese a cash francesca spades eccetera si sono letteralmente sbizzarriti sono stati ciao maura ciao caterina o pier ciao state bene vabbè adesso smetto però di salutare perché diventa quelle robe di c'è il mio amico davide che mi prende per il culo mi imita quando io faccio ciao diana come andata la il post tra occhi allora stavo dicendo che si sono proprio sbizzarrite al massimo queste persone con tantissime intuizioni e sapete che io lavoro rispetto a questa cosa in una maniera molto particolare cioè non non mi preparo una traccia ma faccio una sorta di brainstorming leggo sento oggi poi particolarmente è stata una giornata le sensazioni erano parti parti molto molto dense e poi arriva un tema o qualcosa che che nasce no allora questa luna tanti sono dicevo sbizzarriti la chiamo la luna dello straniero e guardate che ciao monica guardate che il tema dello straniero è un tema che ha a che fare con sagittario noi siamo luna piena in sagittario più o meno da una decina di ore stamattina le 10 e 17 e con una situazione particolarissima perché qualcuno di voi ne hanno parlato anche i giornali ieri sera giove e si vedeva benissimo accanto alla luna sembravano sembrava il famoso bacio anni fa c'è stata questa situazione nella quale si parlava del di giove che baciava venere perché sembrava che le fosse molto vicina adesso è successa la stessa cosa con la luna e io ieri sera mi sono dimenticato di questo aspetto proprio completamente quindi non ho visto niente ma ho letto che in certi posti dove era terzo era veramente bellissimo quindi siete tantissimi non so quanti ma tanti continuano a comparire persone che arrivano e quindi vabbè perché sta arrivando in questo momento non ho ancora detto molto dico solo che l'intuizione che ho avuto tra le tante e intuizioni assolutamente valide parlare c'è chi ha parlato di di anima che si del che si rinfresca in questa luna piena allora il tema dello straniero è un tema caro sagittario che cos'è chi è il sagittario e perché lo straniero allora sagittario è un segno il segno che ha a che fare maggiormente con la ricerca spirituale con la filosofia con con la ricerca proprio i viaggi e in particolare cianna maria in particolare il sagittario anche in astrologia a che fare con l'estero è con quello che è lontano se voi pensate all'immagine del centauro che tira la freccia no che va da qualche parte e e quindi questo è un una luna che ci porta molto lontano cosa vuol dire ci porta molto lontano significa che ci porta che tutte le cose che noi in questi in questi mesi abbiamo rimestato rimescolato setacciato anche con molta sofferenza in questi in questa luna dei gemelli si stanno si sta palesando un mondo nuovo interiore quindi anche esteriore e in particolare sapete la lunazione è un tema l'unazione significa mese e tra l'altro sapete che anche in inglese la parola luna e la parola mese sono la stessa parola praticamente perché hanno la stessa radice quindi nei calendari lunari la luna e il mese corrispondono e ogni luna ha un tema il problema poi è nato quando hanno fatto i calendari solari che sono molto più rigidi e non tengono conto di quelle che sono le energie di quello che noi viviamo allora cosa è che è successo è successo che questa luna ci ha portato finalmente il refrigerio ed è un paradosso perché in realtà ha cominciato a esplodere il caldo no perché uno dice ma come estate piena e tutto il resto ma dentro ha portato molto sollievo e alcune cose che noi per tanto tempo non siamo riusciti a realizzare ad attirarci eccetera si sono materializzate improvvisamente anche nel personale quindi parlo anche con ciao mimmi parlo anche nel diciamo così del personale ovviamente senza poi entrare nello specifico perché sono un po fatti miei però successo ho visto vedo tante situazioni che si sono sbloccate o che comunque nel quale c'è stata l'eruzione del nuovo ora peccato che è qui sta la vera sfida di questa luna peccato che nel momento in cui il nuovo si palesa il nuovo per noi è uno straniero che cosa è uno straniero perché anche la parola straniera parola strano hanno la stessa radice in inglese si dice people are strange no c'è la gente strana ma nello stesso tempo straniero si dice stranger quindi colui che è strano poi uno straniero in provincia di bergamo c'è un'espressione bellissima io mi ricordo un'amica che si era spostata da bergamo andata a vivere a ponteranica e dopo anni che aveva punteranica che è un paesino praticamente attaccato a bergamo per i vecchi del luogo l'era ancora la forestiera cioè quella che veniva da fuori immaginate lo sposto a cinque minuti di di spostamento però era la forestiera che ma in questo caso il tema dello straniero un tema positivo cioè se noi nel non sentissimo che quello che stiamo dire ancora per poco ma devo capire cosa vuoi dire miriam e mi sa che ci sono cose che bollono in te in pentola allora se noi non sentissimo il nuovo come qualcosa che è straniero cioè che non è nel nostro sistema di energetico non saremmo in grado di fare il passo verso il nuovo perché torneremmo ad appigliarci in qualche modo a qualcosa di vecchio i cabalisti dicono che il vero straniero lo sconosciuto lo straniero è l'amore ed è un'espressione fortissima cioè cos'è che vuol dire non è al di là dell'aspetto poetico vuol dire che in realtà tutto quello che noi non conosciamo che ci fa paura ma che nello stesso tempo ci emoziona ci porta delle cose che ci fanno crescere e assolutamente se non fosse sconosciuto noi non avremmo nemmeno quel desiderio di conoscerlo e quel desiderio di sperimentare quella cosa perché altrimenti non non ci porterebbe nulla quindi in questo momento il messaggio di questa luna è quello di portarci qualcosa che non conosciamo qualcosa di radicalmente nuovo che in questo momento ancora non si palesa perché voi pensate che la freccia del sagittario ci mette un po' a fare il suo viaggio ma tutto quello che noi spariamo in questo momento metaforicamente cioè tutto quello che parte da questa nostra freccia e andrà a bersaglio magari per vie traverse magari noi pensiamo che vada dritta invece fa chissà che giri ma questa freccia da qualche parte arriva perché ben l'arco del tiratore è ben centrato cioè la freccia è tirata bene il problema che la vita noi siamo convinti di anche dobbiamo andare da a b e la vita molto spesso ci fa andare prima di farci arrivare a b ci fa andare a c a d cioè noi pensiamo di andare da milano a roma diritti invece magari prima passiamo da taltanissetta ma poi a roma ci arriviamo ok quindi la metafora è questa non importa come ci arriverà a che assegno questa freccia come arriverà a segno questa freccia ma l'importante è che la freccia andrà a segno e noi non sappiamo come e ci è sconosciuto ci è straniero dobbiamo fidarci dello sconosciuto dello straniero e questo è un punto molto critico per gli esseri umani perché tutti quanti noi ecco natasha giusto questa è una cosa interessante che natasha sta dicendo voi che non lo vedete che devo devo dire che stranamente questo straniero non mi fa paura ecco questa è una caratteristica di questo momento cioè nonostante in condizioni normali lo straniero o quello che strano ci fa paura in questo momento più che forse non farci paura questo strano questo straniero la paura la reggiamo e siamo come dire in un certo senso stiamo permettendo alle cose di nutrire quello che non è paura accogliendo per la paura perché non è che il problema il problema che la paura che non ci sia cioè paura fa parte del gioco se un animale non avesse paura diventerebbe incosciente ne andrebbe come dire di mezzo alla sua sopravvivenza stessa il problema che la paura non deve servire poi per tenerci fermi lino capite che il sagittario è tutto il contrario in un certo senso della paura perché il sagittario oltre che essere chilone centauri che sono comunque mezzi uomini mezzi cavalli che sono dei semi dei che sono notoriamente impavidi coraggiosi saggi anche belli se li girano i cinque minuti sono cavoli amari guardate che anche la rolling in harry potter che non è assolutamente una stupida ha rappresentato i centauri come quasi dei maestri che stanno a guardia di howard stanno lì ma guai a toccarli dentro perché se li tocchi dentro ecco sono irascibili e allora vi dicevo questa cosa della paura ma è evidente che il messaggio del sagittario è quello di andare lontano e quello di raggiungere il bersaglio quindi noi abbiamo tendenzialmente bisogno di fidarci perché tra l'altro il sagittario realizzato è anche la fiducia mentre il sagittario diciamo così grossolano è l'integralismo pensate che nel sagittario c'è anche l'integralismo c'è anche che so l'isis l'inquisizione eccetera perché il sagittario diventa fanatico e nel il sagittario realizzato è la fede è la fiducia cioè qualcosa che dice io scaglio la mia la mia freccia lontano la freccia arriva a bersaglio non so come non ho visto il bersaglio l'versaglio lontano ma mi fido mi fido che quella freccia sarà portata da qualcuno ciao giovanni che piacere complimenti lui sa perché alice oddio addirittura la ciao alice ma sei sopra sopra lì c'era mia una mia vicina di casa cioè praticamente qui sopra se è in casa e quindi stavo dicendo che volevo scorrere perché ho visto che ci sono delle affermazioni delle domande allora vediamo cosa ok sì sì oggi parlavamo proprio di di energie dense voi tenete conto ecco questo è l'altro aspetto dopodiché magari chiudiamo con una un diciamo così con un augurio stasera io volevo prendere un oracolo non un tarocco così poi vi dico la differenza ecco l'altra cosa importante che pochi hanno segnato è che oggi oltre che giove essere in sagittario accanto alla luna è vicinissimo a una costella una stella di una costellazione che è fondamentale che è l'antares antares è la stella dello scorpione quindi noi abbiamo con tutto questo panorama bellissimo poetico fresco però accanto lo scorpione cosa vuol dire questa roba e anzi non è mai antares non è mai stata così vicino alla terra come in questi giorni da qualcuno diceva qualcosa tipo due tre mila anni addirittura cioè non si riesce a definire perché una costellazione lontanissima e antares è la stella madre dello scorpione vuol dire che sotto sotto però noi dobbiamo avere il coraggio anche di viverci e di non avere paura delle ombre dello scorpione lo scorpione rappresenta l'ombra lo scorpione rappresenta tutto quello che noi abbiamo rimestato appunto rimescolato che è praticamente venuto fuori in questo periodo quindi lui è sempre lì da monito accanto no e non si nasconde perché il fatto che sia così vicino vuol dire che anzi ci dà la possibilità di vederlo quindi noi abbiamo per la prima volta dopo tantissimi secoli probabilmente la possibilità di vedere questo scorpione c'è le nostre ombre e vederle e portarle alla luce del sole e portarci con noi lontano vuol dire che nel tempo si diluiscono e abbiamo la possibilità di sciogliere tutti i nodi quindi capite che è una cosa molto importante quella che sta accadendo ma dobbiamo avere pazienza cioè la pazienza di sapere che che la nostra freccia andrà a bersaglio quanto ci si metterà non sappiamo adesso tra l'altro tra un po tra dieci giorni e san giovanni quindi saranno anziché dieci giorni di meno tra cinque giorni san giovanni quindi sarà il vero capodanno energetico dell'anno con la notte di shakespeare la notte famosa di sogno a mezz'estate meravigliosa quindi comincia già puc già sta cominciando a cercare cose per i suoi scherzi e poi arriva la stagione delle eclissi che sapete che in genere tra tra l'estate e l'autunno se ne sono se ne verificano se ne verificheranno se non sbaglio tre una dietro l'altra e quindi ci daranno modo di capire l'eclissi rappresenta e clissarsi significa nascondersi di capire che cosa su che cosa dobbiamo lavorare nei prossimi mesi tra virgolette allora adesso prendi prendo un oracolo vado a scegliere un oracolo vediamo cosa mi viene e prendiamo una carta insieme per questo antares chi è che ha scritto antares scusate non vi vedo a ciao elena che vediamo ho ripreso allora eccomi qua speriamo che la freccia sia più veloce della vecchia freccesa caterina sempre grazie sempre del tuo umorismo ma mi mancava cacate allora sapete che gli oracoli sono molto diversi ovviamente però che sono semplicemente del degli indicatori siamo così dei segni che noi ci attiriamo e adesso vediamo qual è il tema io prendo un oracolo che si chiama la mappa incantata questo mazzo che c'è solo in inglese se non sbaglio di colette baron reed che è una delle creatrici oracoli più interessanti al mondo sicuramente e ne prendiamo uno che ci può aiutare vediamo qual è il messaggio ok sono rete c'era giornate da rocchi ieri e oggi visto che amo anche gli oracoli andiamo con gli oracoli vi chiedo qualche secondo di per entrare un po' dentro visto che stiamo io sto parlando tanto quindi eccola come direbbero milano tac coming to life allora in coming to life è una carta che è legata al andare verso la vita ok chiaramente una vita nuova se vi leggo che cosa dice colette baron reed dopo la ne parliamo vediamo qual è la sfida dato la frase il la frase che accompagna questa carta è something beautiful is being born in your life c'è qualcosa di bello sta nascendo nella tua vita però come direbbe roma me cojoni scusate ma ci vuole e quando guardi qui parla di ecco dice quando guardi alla tua vita puoi vedere che cosa sta crescendo puoi vedere che cosa si sta evolvendo al di là del tempo ecco guardate che al di là del tempo incredibile la sincronicità perché proprio a che fare con quello che dicevamo prima non abbiamo garanzie ma sappiamo che la freccia è stata tirata da qualche papilla poi sentiremo esatto fede grazie barbara giusto fede fiducia allora forse ti sei identificata con le vecchie con la vecchia pelle con le vecchie identità e in realtà mentre in realtà ne hai create alcune nuove ma non le vedi ora all'ultimo sta maturando nella tua nelle tue idee rispetto a te stesso qualcosa che un mondo nuovo abita dentro di te tu sai che le cose hanno bisogno di tempo c'è pazzesco non ho parole io rimango sempre agghiacciato positiva cioè sono preso positivamente dalla sincronicità che si crea ogni tanto e lo spirito il il tempismo dello spirito raramente in sincronia con il tuo cioè noi abbiamo del tempo che diciamo adesso il tempo ci vuole abbiamo fretta diciamo ci vuole dieci minuti insomma perché non succede ma il tempo dell'universo il tempo del dell'anima è diverso dal nostro questa carta indica che un sogno che tu accarezzi da tanto tempo sta diventando si sta mostrando sta mostrando dei segni nella tua vita devi provare a non costringerlo questo sogno e o a fare o adattarlo a quelle che sono le tue esigenze i tuoi desideri cioè quello che ci sta chiedendo e di rispettare il tempo dell'anima non il tempo della nostra mente che vorrebbe lo spirito sa qual è la forma migliore per manifestare il suo sogno e la tua vita può iniziare anche meglio di quello che tu possa immaginare ora è tempo per avere reverence riverenza cioè quindi gratitudine e quindi è in un certo senso devozione tutto quello che succede e i contorni del tuo cammino si sono nelle mani del divino tutto quello che fa devi fare è semplicemente permette di dimostrarsi cioè alla faccia della sincronia direi che lo stato l'oracolo è veramente in sincronia con quello che è il tema di questa luna ok date contro la luna piena lo sapete porta a compimento all'esterno quello che il messaggio della lunazione cioè l'unazione intera è un tema è la luna piena è l'espressione di questo tema cioè quindi io quello mostra ok sì è vero questa carta queste carte parlano cioè incredibile davvero perché nel sicuro sono colpito anch'io va bene adesso io vi lascio raggiungo il mio ospite misterioso come un po come televisione l'ospite mistero porta porta vi auguro una buona luna una buona serata e niente ciao paola just in time e niente vi vi do appuntamento alla prossima volta che ci verrà mi verrà di fare una diretta adesso intanto godiamoci questa luna piena e quelle che sono le ultime sicuramente vicino al san giovanni qualcosa faremo non ci sono dubbi ciao